Il dottor Giancarlo Pizza che è il presidente dell'Ordine dei Medici di Bologna che ci ospita questa grande città, la Dotta, che credo ha insegnato al mondo tantissime cose di medicina. Appena Giorgio arriva ovviamente faremo tesse le lodi anche del dottor Pizza a Giorgio. Prego il dottor Pizza, si accomodi pure. Volevo che presentassi tu il dottor Pizza. Sono il vicepresidente, il dottor Pizza purtroppo è a Roma e ha mandato me a portare il saluto. Ed è con grande piacere che vi porto il saluto del presidente dell'intero consiglio dell'Ordine dei Medici di Bologna che ha dato il patrocinio e rileva profondo interesse per i temi oggetti del presente congresso nazionale. Fin dai tempi più antichi, nelle antiche civiltà, la medicina è stata divisa in due forme. La prima era quella della prevenzione, del mantenimento dello stato di salute. La seconda era quella della cura delle malattie. Nel mondo ellenico la prima era legata a una divinità, Igeia, e la seconda a Shlepio. Ora, queste due forme di medicina hanno proseguito parallelamente fino ai giorni nostri. Oggi noi sappiamo che le patologie più importanti, le cause di morte più importanti sono per esempio gli eventi cardiovascolari, il diabete e i tumori. Queste patologie hanno un insieme, una fitta rete di interazione che difficilmente possono essere debellate con un solo intervento terapeutico. Ecco perché convegni come quello di oggi, dove si parla di epigenetica, dove si parla di stabilità genomica, dove si parla di nutraceutica, sono importanti perché possono portare un punto di unione e di sinergia per una migliore terapia. Io vi ringrazio di questo invito, auguro a tutti buon lavoro e grazie ancora. Grazie.